Con Germano Lanzoni, poi per i pochissimi ricordiamo lo speaker di San Siro, fra le altre cose, ma Germano Lanzoni è un attore, è un attore che ha portato sugli schermi uno dei successi di questo mese di dicembre, i famosi film di Natale. E a me, adesso si è un po' anacquata la cosa perché il Milan ha vinto a Empoli, il Napoli ha perso dallo Spezia, ma proprio in quella serata di Milan-Napoli, lui vede la partita in quell'angolo, ho detto, vuoi vedere che Germano Lanzoni il prossimo film sarà Mollo il VAR e apro un ciringhito? Voglio iniziare l'intervista così. Direi di sì, direi di sì, Carlo, è un grande piacere, buon anno a tutti. Il primo gennaio sarebbe bellissimo poter dire Mollo il VAR e passo la Moviola in campo, nel senso che se deve essere tecnologia che lo sia fino in fondo, questa è la mia personale opinione. Come hai vissuto dal tuo angolo? Anche io urlavo gol, che sì, il presidente, e poi ci hanno dato un cosa che si chiamava cool break in qualche anno fa, la doccia gelata. Sì, sì, alla milanese però, non all'inglese. Allora, quando ho segnato che sì, poi si sono abbracciati molto vicino alla mia postazione e io ero in fase euforica, per cui mi sono anche avvicinato per quasi essere avvolto dall'energia di quell'abbraccio. Non mi sembrava vero, anche perché sono andato poi a vedere dalla regia, dagli schermi del nostro box, che poteva annullare un gol del genere. Forse avevo dei dubbi, ha detto magari Giroux si è mosso, ha toccato involontariamente... Sembrava giocatori con magari vicini alla mano, esatto, esatto. Era fermo, come dire, ragazzi io sto fermo, beh, roba vostra, no? Quindi lì c'è stato veramente una capacità di autoconcentrazione, perché avendo il microfono in mano e tutto ciò che è passato nella testa e sulla lingua di tutti i rossoneri, è veramente lì la tentazione. Devo imparare a darlo ad altri quando vado a controllare il VAR. Senti, prima di parlare di Milan, faccio come le grandi interviste nelle grandi televisioni, ma il mio YouTube è un grande, allora la soddisfazione di un film che ha avuto successo. E sappi che ti faccio un complimento, perché è l'unico film che sono andato a vedere a dicembre. Io sono figlio di tutti i santo Stefani, il santo Stefano, con Neri Parenti e Vanzina, Merry Christmas, Vacanze Natale a Cortina, Vacanze in Crociera. Io premo una tradizione, mi sono bruciato, mollo tutto e apro un ciringhitto a Sant'Ambrogio, più o meno in quella data lì, e quindi ho letto che non sono andati bene i film, ma io ti dico una cosa, parlo a me piace che parla di cima, non c'erano i film secondo me, ma a Natale, abbiamo voglia di un film con l'albero di Natale, tu sei uscito prima intelligentemente, ma questo si spiega perché, indipendentemente dal problema grave che abbiamo, abbiamo capito per quale motivo i locali erano un po' vuoti. Dammi il tuo parere e poi parliamo di Milan. Ma allora, in parte è vero, noi siamo stati strategicamente, è stata brava Medusa, faccio uscire il 7, poi tra l'altro dovevamo uscire il 18 di novembre, era un'opera prima, per cui ha delle posizionamenti di film strategici, non vengono mai messe a fianco a film con un grande budget promozionale, con grandi autori, proprio per evitare la fuga dalle sale. Però è stata un'esperienza straordinaria perché è un processo collettivo, come una squadra di calcio il film, tu io anche se sei il protagonista, se sei ibera ma davanti non ti arrivano i palloni, tu hai ben poco da fare. Invece il successo del film, anche se in questo caso passa attraverso di me un po' come i video, è proprio per merito di tutta la squadra. È sempre difficile domandare e voltarsi indietro nel 2021, nell'anno precedente. Perché? Perché c'è il girone di ritorno, come protagonisti, magari più bravi, meno bravi, poi sono cambiati, e il girone di andata del campionato successivo. Cosa ti rimane dentro del 2021? Parlo di partite, parlo di interpreti e parlo di emozioni. Ma la più grande emozione è stata il ritorno in Champions. E quando ho sentito la famosa musichetta, e quando lo sento tutti noi, l'abbiamo sentito allo stadio, nel momento in cui apre il ritornello, è stata una vibrazione tellurica. Cioè c'è stato un boato aspettato e partecipato. E di quell'emozione mi porto via anche il coro che fanno a Pioli, perché per la prima volta, credo a memoria, un allenatore ha il suo coro così partecipato. Hai ragione, ti interrompo, hai ragione, è una domanda che volevo fare prima o poi, perché Pioli, forse, certo che si rende conto, mancherebbe altro, però un coro a un allenatore, parliamo di Rocco, parliamo di Lidom, parliamo di Sacchi, di Capello, di Zaccheroni, di Allegri, di Ancelotti, ma il coro a nessuno. No, no, è un binomio, un fattore casuale, ma non per caso, come tutte le cose. Cioè aver scelto quella canzone che ricordava i ritorni in Pullman, l'inizio di questa grande avventura, di questa coesione che diventava un inno e quell'inno poi l'ha impressionificato il nostro mister. E credo che lui lo sente, già lo sente, perché comunque anche in warm-up, cioè per quelli che non vengono allo stadio, spero pochi all'ascolto, cioè nel momento in cui entrano i calciatori a riscaldarsi, che non c'è il sold out, ma anche ancora il milanese arriva all'ultimo, quindi c'è un terzo, un quarto, una volta un poco più del terzo dello stadio, quando c'è il coro per Pioli è veramente da concerto, proprio senti cavalcando, una bellissima canzone di quelle che vanno oltre i luoghi. Lo stadio è un'ottima cassa di risonanza di quelle canzoni che io le chiamo senza tempo e senza luogo, cioè che nascono ovunque nella storia, non certo per lo stadio, ma poi si legano a un evento, a una partita, e poi allo stadio si canta volentieri. Alcune canzoni, tipo il famoso Po, 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 che era una canzone di due musicisti, mi sembra austriaci, addirittura comunque tedeschi, e che è diventata poi la canzone che tuttora in qualunque stadio, quando parte, il tifo lo segue. Quindi le emozioni della Champions League, le emozioni di quella canzone che io ho vissuto quando vado in trasferta, vado spesso in curva, e in curva ti dico è ancora più emozionante. Invece proprio sul piano tecnico, la più forte emozione e i due o tre, non dico uno, i due o tre giocatori del 2021. Sandro Tonali, per una questione proprio di come ha voluto lui la maglia rossonera, e di come è riuscito a trasformare la giovane promessa in una fresca realtà, quindi il suo gol. Col Cagliari, bello, certo. Quello con l'Atalanta, certo. E poi ho un'amicizia particolare con Alexis Salemekers, il 56. Ma per una questione di fascia o per altro? Perché è la tua fascia. No, per una questione di, ti direi, di energia solare. Gliel'ho detto anche a Pioli quando abbiamo fatto l'incontro Natale a Casa Milan, di come, e lui aveva partecipato al video di Natale, di come ha questa sua solarità, che ce l'ha anche Leao quando gioca, gioca in modo leggero, a me mi piace che sorride, ma la sua invece la partecipazione come un folletto. E questo poi è anche il giocatore, ho il suo poster nelle stanze delle mie figlie, per cui sono i due giocatori, chiaramente tutta la rosa, non vorrei mai dimenticare Dio, se no, Ibrahimovic. Quelli sono i momenti che poi ricordo con più volentieri, a livello emotivo, sono i quando partono con l'abbraccio centrale, tutti insieme, che rendono la partita epica o comunque sentita, non è soltanto una prestazione sportiva, è proprio un momento in cui, soprattutto noi avevamo bisogno di vedere quel tipo di attaccamento al gioco, alla squadra, a me piace pensare agli opliti della falange di Filippo II, questa cosa leggera, una cosa sobria, una cosa così, però che siano opliti di Filippo II, che sia Milano, questa coesione, mi sembra che sia un po' il segreto, il Milan non era partito bene, parlo di società, con proprietà, con dirigenti, sembrava che ci fossero delle divergenze, sono stati bravi a lavorare tutti insieme, in primis Ivan Gazzidis ha fatto un lavoro dietro le quinte, secondo me straordinario, e la differenza tra il Milan di un anno e mezzo fa e questa, indipendentemente dai risultati, è proprio la coesione, te ne sei accorto anche tu di questo cambiamento? Sì, che è stato un processo, credo davvero, da quel 5-0 a Bergamo, è un cambiamento poi sempre di progetto, nel senso non si è cercato più il risolutore, no? Qual è quel giocatore che entra e che ci può risolvere la partita o che spero che stia bene? Siamo passati poi a un gioco in cui il collettivo esprimeva un gioco, i momenti più belli sono stati quando a prescindere da chi entrasse rimaneva quella e rimane tutto sommato adesso non per tutti i 90 minuti, non per tutte le partite, ma come è normale che sia, adesso forse gli imbattibili, ma tu puoi assolutamente confermare o anche capovolgere la tua conoscenza è tale, cioè non si vince mai tutte le partite dominando, no? si vincono i campionati sapendo gestire le sconfitte l'uno a zero l'uno a zero il sentore sempre di più sempre di più nelle partite è stato abbiamo un gioco e su quel gioco soprattutto il tifoso milanista si ritrova cioè la gente viene a sassi a sero per giocare a pallone non è che per stare lì a perdere tempo direbbe il mio personaggio senti ancora due cose tu vivi la tua partita in quell'angolo tanto per farci capire è l'angolo tra la curva del milan e la tribuna rossa e stai e vivi le prestazioni dei portieri sei passato senza paragoni che è antipatico Donnarumma non abbiamo ancora visto Morante e poi e poi Mike allora sono a livello ti dico energetico no? nel senso che le guardi e cerchi di percepire cosa riescono a trasmettere devo dire che Mike mi ha impressionato per la sua concretezza centralità e soprattutto la capacità di gestire il reparto parla molto dalla prima partita era il suo luogo questo dimostra che i grandi portieri come i grandi giocatori quando arrivano i periodi di ambientamento sono sempre utopici sono più per la stampa perché nell'attimo in cui sanno fare quel loro mestiere in un contesto chiaramente non complicato viene fuori e quindi mi ha impressionato che poi rispetto a chi c'era prima credo che abbia maggior talento distribuito nelle varie fasi della porta cioè tra i pali in uscita la gestione il coraggio e la velocità la reattività sicuramente Donnarumma per la sua fisicità e la reattività poi noi l'abbiamo preso anche quando aveva 16 anni quindi la reattività era 15-25 hai biologicamente il tuo corpo una macchina da guerra la sua fisicità forse lo aiuta come apertura detto ciò in alcune altre parti invece Donnarumma aveva deve crescere doveva crescere cosa che invece vedo e poi soprattutto il portiere moderno che ha i piedi Maika una buona una buona capacità anche di lanciare di lanciare lungo quindi a far partire il gioco in questo caso è uno spettacolo vederlo e ancora di più perché quando vengono e prendono le responsabilità i giocatori a me fanno impazzire perché chiunque viene nel Mina sa che quella maglia l'ha portata è un campione non può mettersi in relazione col passato deve scrivere lui il presente in modo tale che chi prenderà la sua maglia ci pensa due volte ultima cosa siamo nel 2022 il primo giorno del 2022 chiaro che dirti cos'è che sogni sogniamo tutti lo scudetto inutile girarci intorno poi sarebbe lo scudetto in un duello che in questo momento sembra tra Milano e Inter ci sarebbe la soddisfazione maggiore per avvicinarci alla scudetto della stella ma in generale che cosa vuoi parla calcisticamente parlando di Milano ovviamente vuoi da questo 2022 vincere vincere giocando sono partiti anche i mortaretti per festeggiare certo quello che mi auguro io è che si giochi con l'intenzione di essere oramai una realtà e non più una realtà indivenita un miracolo un miracolo la squadra dei giovani la squadra che nessuno sa come si aspetta invece oramai due anni che la squadra ha un suo gioco le squadre quindi hanno avuto tutto il tempo di trovare giustamente le risposte però noi dobbiamo giocare con l'idea che siamo in Milan e credo che Pioli lo ribadisce sempre in tutte le interviste la responsabilità della società è mettere ai giocatori a disposizione il meglio e loro ce l'hanno si allenano a Milanello hanno un team tecnico straordinario il team uguale della società devono giocare da Milan cioè giocare per far sì che chi si porta a casa i punti dal Milan se li è sudati anche perché anche perché Germano parliamo bene di Pioli parliamo bene di Mignan di Tomori di Ibrahimovic eccetera però per entrare nella storia per entrare nella leggenda bisogna queste qualità straordinarie affiancato dal Palmares Palmares Scudetto Coppa direi che questo è quello che fa la differenza uno può essere un grandissimo allenatore però deve vincere sì è una è la tragedia dello sport nel senso tutti ti invitano a farlo a praticarlo perché l'importante è partecipare però dopo chi scrive la storia è chi vince detto questo rispetto il grande gesto di Guardiola nel riconoscere anche un secondo posto in Champions League come un obiettivo da onorare detto questo bisogna accettare se gli avversari sono più forti ma come diceva il grande Rocco che vinca il migliore mancano un grande abbraccio Germano lascio a te l'augurio di Germano Lanzoni un attore importante autore e protagonista di uno dei film più visti seguiti con simpatia e affetto da tutti milanisti interisti giuventini eccetera un saluto e un augurio per questo 2022 dalla voce del Milan ma anche dalla voce di un appassionato di calcio l'augurio è uno solo di poter vedere incontrare il maggior numero di persone allo stadio nella casa del Milan e abbracciarci tutti insieme a fine partita e come farebbe Riccardo Schei sul podio chiudiamo così devo dirti ho il maglione del Milan comprato a Natale perché il 26 di dicembre sarei dovuto andare da mio fratello interista con tutta la famiglia col maglione rossonero poi purtroppo per una questione di quarantena non è stato fatto quindi ce l'ho ancora addosso lo porterò anche il 6 di dicembre ci vediamo sabato